ci troviamo vicino alla cinta muraria di cariato superiore e precisamente sul torrione della spezzeria la cinta muraria che risale al quindicesimo secolo spezzeria perché perché c'era la farmacia da spezie spezzeria o il farmacista speziale chiamavano una volta e mi è venuto in mente un proverbio ma così spontaneo proverbio dice ogni savur ha bisogno rarafravac ma guardando le mura mi è venuto in mente questo proverbio perché ci sono le pietre grandi quelle più piccole quelle più piccole ancora e le pietre piccolissime si chiamano asabur ecco perché ogni savur ha bisogno rarafravac ogni savur ha bisogno rarafravac anche le cose più insignificante possono essere significative quando le grande questo è il significato del proverbio arrivederci